Sblocca il risultato Il pallone in avanti Attenzione allo scatto Il numero 10 Uno contro uno Può andare a raddoppiare E invece si mangia Il gol del 2-0 I strati Ma che lancio dalla difesa E il pallone allargato sul lato destro Non c'è fuorigioco Il più pericoloso Della Moldavia Incrocia con il destro La parata non è finita Ancora una volta Nederita Pericolosissimo Sblocca il passaggio della Moldavia E allora il numero 7 Si proietta in avanti Il pallone dentro Interessantissimo Pericoloso Supera il portiere E cade a terra E calcio di rigore Per la Moldavia Dumitru dagli 11 metri Per raddoppiare Per la Moldavia La rincorsa Il destro Potente Centrale Sotto la traversa 2-0 Il pallone recuperato È un 3 contro 3 Attenzione Pallone sul lato sinistro Arriva E poi il destro La parata del portiere Occasionissima Per il Senegal Che vuole accorciare le distanze Pallone in avanti Riesce a chiudere il numero 2 Allora è un 1 contro 1 Il pallone dentro Si gira il sinistro Alto Sopra la traversa Ijeik Nato sinistro Pallone al centro Avanti all'aria Il destro verso la porta Traversa del Senegal Pericolosissimo E attenzione Annederita Dentro c'è Bordian Eccolo servito Bordian contro il portiere Lo supera E segna con il sinistro Spingendo in rete Il terzo gol della Moldavia Doros Insegue il pallone È lanciato Un'altra volta Due contro due Dentro l'aria Doros Prende il fondo Ancora Doros Poi va con il destro La parata del portiere Monaco Uno contro uno Ancora una volta sul fondo Poi Sterza Si fa avvicinare L'avvicino Doros Il pallone per Bordian Sul fondo Calcio d'angolo Pallone deviato Deve andare a chiudere Sul numero 17 L'uno contro uno Cade a terra Calcio di rigore Per il Senegal Diallo La rincorsa Pallone fuori Sopra la traversa Té Cross adesso al centro Il portiere scavalcato Cade a terra Calcio di rigore Secondo calcio di rigore Per il Senegal Questa volta ci prova Faillé A trasformare dal dischetto Altra parata Altro errore Varanita Gli dice di no Indovina l'angolo Pallone Sul lato destro Poi cercano Lo scatto di Bordian Che lotta Si va a prendere il pallone Viene messo giù Fallo E cartellino rosso Rimane addirittura 9 il Senegal Eccolo il fischio In corsa Il malcino Verso la porta Gran parata Del portiere Che mette il pallone In angolo A chiudere Subentra Monaco Attenzione Al numero 3 Mette il pallone dentro Bordian Uno contro uno Non può sbagliare Quarta rete 4 a 0 Partita In cassaforte Arriva adesso Il triplice fischio Finisce la partita La Moldavia Accede Ai quarti di finale Vittoria netta